Ciao a tutti spiegati e benvenuti in questo nuovissimo video Che bella luce Da quando ho stifaretti sono proprio felice della qualità dei video Avevo intenzione di farmi un nuovissimo tatuaggio Ma non ho la più pala idea di cosa fare Quindi mi sono detto Perché non faccio scegliere ai miei follower di Instagram? E ho fatto due sondaggi che vi metto qui per ora Poi domani mattina andrò a fare un terzo sondaggio Su, diciamo, il vincente tra questi due Se non mi seguite ancora andate su Instagram Ma seguitemi perché diventerete nei prossimi video Parte fondamentale dei contenuti Quindi deciderete molte cose su di me Vi faccio prendere il controllo Il tatuaggio non è una cosa che tu dici Vabbè si mangia una cosa Tatuaggio Detto ciò, seguitemi, lasciate like, condividete E ditemi se questo format i miei follower decidono Vi piace Vai con la sigla L'ho sprecato, l'ho sprecato, l'ho sprecato Ciao, ciao Sprecati, allora È giunto il giorno I sondaggi sono andati Speravo meglio Anche perché Famiglia Io ho già un tatuaggio con i miei fratelli E il mio mugino Quindi Già ce l'ho Però mi è venuta un'idea Mi è arrivato questo messaggio Inter E io già avevo messo il sondaggio con l'Inter Quindi ho detto Quando vado allo stadio Io mi sento a casa Quando vedo l'Inter Fa un po' parte della famiglia? Probabilmente sì Ma chi se non più dei miei sprecati del mio cuore Fanno più parte della mia famiglia Quindi ora Dato che avevo in corso una scommessa con una sprecata Una delle mie migliori amiche Nonché la fidanzata di Ciccio Ma la chiamiamo E la convinciamo a venire con me a fare un tatuaggio E ci facciamo lo stesso tatuaggio Così mettiamo insieme un po' di cose Vediamo se risponde No non è tardi però Lei è sempre indaffarata Pronto Il problema è Ciccio aiuto Salvami Ciccio Aiuto Allora Sprechi Io ti ricordo Ti ricordo Di essere sulla lista Tu hai una lista Hai una lista Contro di me molto lunga anche È abbastanza lunga E se ti dicessi Di cancellare una parola dalla lista E metterla Cioè una frase più che una parola Dalla lista E metterla sul nostro corpo Cosa ne pensi? Aspetta Ma se prendo una parola dalla lista Poi viene cancellata dalla lista E rimane sul corpo È indelebile Sì Hai capito È proprio la tua aspirazione alla vita Perché non te ne puoi mai scordare Capito? Voglio scrivermi tutta la lista Eh tutta la lista è un po' difficile Avevo pensato a qualcosa Che è una parola top di gamma Quindi io lo so qual è la parola Che voglio scrivermi Che vorrei Ok quindi se io ti dicessi Che ho già prenotato Dal tatuatore Oggi pomeriggio Alle tre e mezza quattro Vieni Sei pazzo Sì Ok è fatta È fatta È andata Perfetto Ma veramente stai dicendo Assolutamente sì Ti sembra uno che scherza Ok comunque ci vediamo oggi pomeriggio Alle tre e mezza Va beh ok Ci vediamo fatta Sprecati È fatta È fatta E quindi ci vediamo più tardi Per vedere che cazzo nasce fuori Sarà una giornata veramente particolare Sprecati Sto andando a fare questo benetto tatuaggio Che avete scelto voi Quindi Vi ricordo di seguirmi su Instagram Per interagire con me anche nei video E lasciate like al video Commentate Sto aspettando Gloria Se si muove Vediamo come va Io me ne sto andando Ho finito Dai Che pensavo che mi facevi il bidone Ma che bidone? Sono a San Giorgio Ti ho portato la surprise È veloce Allora un'ora ad aspettare Con questa bestia E ora Inizia lei a farti tutto oggi Perché io non me lo faccio Che ne dici Gloria? Come ti senti? Stai zitto Stai zitto Nei sondaggi Ce l'ha scritto famiglia Ce l'aveva vinto Famiglia Solo che ho detto Cioè che a me Stiamo là Stiamo là Cioè non è che Io pure ho votato famiglia Vabbè Per vedere che tu sei risposta è finita Non ridere Devi essere triste Questo è un giorno triste No mi muove tutti A rire Sprecati Sentite l'ago che va Che Gloria si sta tatuando Dopo tocca a me Avete scelto voi Ve l'ho detto La cosa più vicina Alla famiglia che ho Sono loro Quindi l'ho fatto con Gloria Come ti trovi? Io sto a posto? Io Si Ma hai iniziato? Eh si In questa macchina Ci sono Degli adesivi Sprecati Tatuaggio fatto Ve lo faccio vedere Tra poco In alcune foto Foto O metto un video dopo Foto con tatuaggio Non ho capito Che è successo? Niente Tu dicevo Non c'è Come non c'è? Ah nella macchina Ah guidata la volpì Gloria che ne dici Di questo tatuaggio? Ci piace Come si scangella Come si toglie Come si toglie No non si toglie Non si toglie E No perché È veramente simpatico Dopo ve lo faccio vedere Non farò più niente Questa giornata Quindi Continuate a seguirmi Lasciate like Commentate Prossima cosa Attivate la campanella Prossima cosa Che farò decidere a voi Sicuramente sarà Un pasto di una giornata Cioè nel senso Proprio Mangio tutta la giornata Quello che decidete voi Quindi seguitemi Su Instagram Così potete decidere Se no non potete decidere Chiaramente Sto al centro commerciale A comprare un po' di cose Vegane Per non mangiare Troppa carne rossa E appena torno a casa E faccio del tatuaggio Giù Quello è il primo Che ci siamo fatti E Gloria insieme Però me ne sono fatti due Perché Questa cosa Che devono essere dispari Se non arrivavo Al numero dispari E questo qua Che è per l'Inter Quello è per la famiglia Con Gloria Questo qua invece È per l'Inter Quindi per la seconda casa Il coro Più bello dell'Inter Sulla mia campo Quindi sprecati Spero che Dopo questo video Notturno Anche sulle due Vi sia piaciuto Lasciate like Commentate Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E ci vediamo Praticamente Con uno video Giù sprecati Ciao 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 Ciao